Credo che vanno a incontrare una gara molto difficile, soprattutto perché loro vengono a perdere con 3 a 0 con Roma. Stanno in una situazione difficile, ma loro hanno dimostrato che possono vincere a qualcuno, come hanno vinto la Supercopa contro la stessa squadra come è Roma. Credo che va a essere una partida difficile, ma è bella, soprattutto perché è un campo più grande, 40 per 20. Credo che si guarda una partida abbastanza bella. L'anno è curso a l'ora, però la generatore è l'esteso, il gioco è l'esteso, gioca molto bene a un uomo, perché sono abituati a giocare così. Credo che la squadra che meno errori possa commettere va a vincere la partida. Soprattutto noi dobbiamo pensare a giocare come stiamo giocando, che stiamo giocando bene. Dobbiamo intentare mettere qualcun gol o di più, però credo che la partida, lasciando un po' Napoli, che credo che fu una partida strana, tutta la partida di più stiamo lavorando bene, stiamo facendo bene. Dopo questo è il calcio, il calcio a 5, il calcio a 11, alla fine del deporte. Speriamo che ci saranno i tre punti per casa, perché veramente stiamo in una situazione bella, che se prendiamo i tre punti la prossima settimana che giociamo per Sky, lo guardiamo in diversa maniera.